Forse proprio per non sentire, non farmi mangiare, è un'emozione più concentrata, più divertire e cercando di tenere l'emozione. Qui penso che posso riuscire da una libertà che non trovi. Qui penso che posso riuscire a portarmi sul palco e parlare delle problematiche, parlare di quanto mi sento invisibile condiscerlo in qualche modo. Ed è stata veramente una salvezza per me. Siamo medici e noi fanno un lavoro vero e salviamo madre.